Il Savit nasce nel 1953, da mio padre e mio zio che sono ormai i fondatori, anche se hanno appreso di fatto l'eredità lasciata dal mio nonno, una merceria, possiamo chiamarla, dell'epoca dove si vendeva di tutto. Mio padre e mio zio hanno invece il merito di aver traghettato completamente l'attività verso il pret-à-porter, verso la moda, verso il fashion, verso il bello. Quindi aprendo un negozio maestorico nella città e continuando a investire nel territorio, aprendo numerosi negozi nel centro storico. Noi giovani, noi terza generazione, abbiamo il compito di portare qualcosa di nuovo attraverso secondo noi l'e-commerce. L'e-commerce è fondamentale non solo per la nostra clientela ma anche per lo stesso territorio, per Como, perché ci permette di fondere e legare sempre di più la nostra clientela, la nostra offerta al territorio stesso. La visibilità online fa sinergia. Il nostro valore è cliente.